Un incontro particolarmente impegnativo quello su Turner, in primo luogo perché così vorrei rendere omaggio ad una mostra che si tiene a Roma e quindi invitare il pubblico milanese ad andare a Roma e poi perché mi occupo di un autore del romanticismo e io soffro da un'età ormai piuttosto lontana di febbre romantica nel bene e nel male, con i vizi e le virtù che il romanticismo attribuisce ai suoi seguaci. Turner è il romanticismo con la sua aspirazione all'infinito e ce l'ha comunicato in oli, in acquerelli e in una vita particolarmente intensa, terminata dicendo il sole è Dio. Turner nasce nel 1775 in un quartiere centrale ma molto popolare di Londra, vicino al Covent Garden, zona di postriboli, di taverne e con ogni probabilità, benché lo attenda una vita lunga ed estremamente fertile, con tanti rapporti con poeti, con letterati, con libri, in cui probabilmente Turner sapeva poco scrivere, sapeva leggere, ma chi ha preso in esame gli appunti che Turner tenne per le lezioni al corso di prospettiva della Royal Academy si è trovato di fronte a una scrittura incerta e una pessima grammatica. Di lui esiste questo autoritratto che adesso vi faccio vedere nella sua integrità, è un autoritratto probabilmente idealizzato, vi ho detto lui è nato nel 75 e qui siamo intorno al 1799. Le origini di Turner sono dichiaratamente plebee, il padre fa il barbiere e oltre a rasare i clienti prepara parrucche. Il punto più dolente della storia di Turner è la madre, una madre matta che finisce in manicomio e che probabilmente ha squarciato l'infanzia del ragazzo con scenate che hanno interrotto il suo rapporto con il punto di riferimento femminile. È un autoritratto idealizzato perché Turner farà di tutto per essere accettato e soprattutto per capire qualcosa della vita che gli altri più fortunati intorno a lui non capivano. Ci sono caricature poi di Turner. Sappiamo che quando Delacroix lo incontra, è un pittore romantico anche lui, ma di tutt'altro genere, un dandy, quando incontra Turner lascerà notazioni preziose nel suo prezioso diario dicendo ho incontrato il famoso Turner, mi sembra più un contadino che è un artista e un regista, Mike Leigh. Nel 2014 ha girato un film sugli ultimi 25 anni di vita di Turner e lo stesso Leigh dice di aver raccontato la vita di Turner con una sorta di transfert autobiografico e probabilmente il protagonista del film assomigliava a Turner più di quanto gli assomigliasse l'autoritratto. Un uomo bassotto, sicuramente trasandato, memorabili le sue mises, assolutamente non paragonabili con quelle dell'Elegantissimo Delacroix. Esistono, io credo, delle coincidenze anche nell'arte, anche nella nostra quotidianità. Non pensiate con ciò che io sia un appassionata di stregoneria o che sia spinta da demoni irrazionali, no. Però quando seguo un percorso, quando mi innamoro di un artista e preparo queste conferenze, scopro che ci sono poi tanti sottili legami sia con la mia vita personale, sia con quello che sta succedendo intorno a me. E così, mentre a Roma, ai Chiostri del Bramante, è in corso questa mostra dedicata a Turner, a Venezia è in corso, a Palazzo Ducale, una mostra dedicata a un personaggio di grandissima tempra e statura. non dico che lo avessi saputo, avrei prediletto John Ruskin a Turner, ma forse avrei messo anche lui sul cartellone, perché gli occhi con cui guardiamo i quadri di Turner sono gli occhi che ha preparato per noi John Ruskin. Il mondo dell'arte è un mondo litigioso, come è il mondo degli uomini e spesso il pubblico è attratto dalle competizioni, dalle rabbie, dal farsi del male reciproco. Gli artisti che così diventano piccoli come tutti noi, come gli uomini, tra virgolette, normali. Siamo poco attenti invece ai ruoli dell'amicizia, dell'amicizia e della stima. Il caso di Ruskin nei confronti di Turner è un caso straordinario, perché Ruskin era molto più giovane di Turner, era nato nel 1819, quindi aveva poco più di 20 anni quando Turner ne aveva già passato i 60. Aveva anche una storia completamente diversa. Ruskin veniva da una famiglia puritana, ricca, colta. Eppure in quel 1840, quando Ruskin incontra Turner, dietro la polvere e la patina di questo ometto famoso per il cattivo carattere, gli occhi azzurri di Ruskin individuano il genio. Ruskin scrive su Turner delle pagine straordinarie e a lui dedica tanti capitoli di quell'enorme opera in cinque volumi che Ruskin fluviale nella sua prosa intitola «Pittori moderni». Ruskin morirà proprio nel 1900 e sarà quindi un vero artista intellettuale, forse meglio, vittoriano, mentre il nostro Turner, più vecchio, era nato in età georgiana. Entrambi tuttavia conoscono le inquietudini e i fuochi sotterranei di questa seconda metà del Settecento e soprattutto della metà dell'Ottocento, fatta di tante contraddizioni. Ruskin in particolare, lo vedremo, taglia, interrompe questo matrimonio con una delle ragazze più desiderate, più belle del suo tempo e viene accusato, pensate, piena età vittoriana, di impotenza. è stato però un personaggio difficilmente descrivibile, uno storico dell'arte, un artista, un amico, uno che ha creduto nel Medioevo e nella forza dello stare insieme delle congregazioni e delle corporazioni medievali. ha creduto nel popolo e nell'apostolato sociale dell'arte, ha creduto nell'arte come etica e questo è uno degli argomenti ancora oggi più spinosi, più difficili. è buona l'arte? Aiuta nei momenti di difficoltà? Ci è in qualche modo sostegno? Difficile dirlo, ma Ruskin ci ha creduto. Per questo lo abbiamo messo un po' nel dimenticatoio e dobbiamo ad Anna Ottani Cavina, che è la curatrice della mostra di Venezia, si è tornato momentaneamente con le sue opere nelle sale di Palazzo Ducale. Turner e Ruskin entrambi si sono dedicati al paesaggio. Il paesaggio è uno degli argomenti per me più attuali e più straordinari, perché di nuovo non è solo io mi metto lì e copio quello che ho davanti agli occhi, ma io rifletto su uno spazio, uno spazio fisico e penso a come questo spazio è stato prima di me, come sarà dopo di me. La seconda metà del Settecento, con tutta una serie di filosofi, ma anche di letterati, di poeti, indaga la percezione del paesaggio, anche di un paesaggio che nei secoli precedenti era sembrato decisamente trascurabile, come la montagna, come vedremo. Non riescono ad andare insieme in montagna Turner e Ruskin, ma ambedue ci hanno lasciato delle splendide opere che rappresentano quei paesaggi montani che per secoli erano stati messi da parte. Le montagne erano considerate uno sgradevole errore di quel gran giardiniere che è stato il Padre Eterno. e invece Turner in un viaggio che compie nel 1802 in Svizzera e Ruskin con una serie di viaggi che si potrà permettere in misura molto maggiore, essendo come vi dicevo sostanzialmente un rantier, figlio di una famiglia ricca. Tutti arrivano alle Alpi e scoprono questi paesaggi così diversi dal paesaggio mite dell'Arcadia, delle feste galanti di Vattò, che avevano stregato il pubblico del primo Settecento. Questo è un dipinto di Turner e questo invece è Ruskin rappresentato da un pittore che diventerà suo rivale in amore, uno dei membri della confraternita dei pre-Raffaelliti, John Everett Milles, ai piedi di un ghiacciaio. Questo invece è un acquerello di Ruskin, Chamonix, il Monte Bianco, i Grigioni, la montagna temuta e inaccessibile nel Seicento. Certo ci sono lampi di anticipazione, i disegni di Leonardo, gli acquerelli di Dürer, ma i secoli dal Medioevo al Settecento avevano rispettato il mistero della montagna, montagna che si riempie di leggende, le fate, i folletti, gli uomini selvatici. La fine del XVIII secolo cerca la montagna, forse anche perché, e lo vedremo, su quelle montagne, sulle Alpi, passa un personaggio la cui eco non finisce mai di stupire l'epoca di cui parliamo. Ruskin si dedica anche allo studio della geologia e questo è forse l'elemento che lo differenzia da Turner, tanto che Ruskin scrive degli articoli pieni di vigore per difendere l'amico, per difendere le sue opere fino agli anni 40 dell'Ottocento. Poi quando Turner prenderà la sua strada più visionaria, quando non disegnerà più, Ruskin lo abbandonerà. Ruskin ha una visione della pittura più minuta, neofiamminga, che con la fine di Turner passerà appunto ai pre-Raffaelliti. E questo è forse una delle testimonianze più celebri della passione di Turner per la montagna, ma non una montagna culta e gentile, una montagna le cui forze superano infinite volte le forze dell'occhio di chi guarda. E vi dicevo, gli antropologi hanno creato a proposito del paesaggio un termine un po' difficile, ma che insieme cercheremo di affrontare. Metaspazio. Cosa vuol dire? Ve lo racconto in maniera semplice, a costo di spogliare di contenuti un argomento molto ricco, molto profondo soprattutto. Pensate a quelli che sono stati in questo spazio prima di noi. Lo sapete? La chiesa di Santa Teresa era una chiesa barocca. Poi sapete che è stato un luogo di produzione del tabacco, una fabbrica di tabacco. Gli spazi in cui noi abitiamo, le strade che noi percorriamo, sono eccheggianti di voci di quelli che sono venuti prima di noi e forse di quelli che verranno dopo di noi. Le montagne con la sensazione che danno di essere lì da sempre, le cattedrali della terra, le chiamava Raskin, sembrano mettere a confronto l'eternità con la nostra brevità. Un libro che vi suggerisco caldamente di leggere è un libro di uno storico dell'arte, ma anche antropologo, direi genericamente uno straordinario umanista che si chiama Simon Shama. che ha scritto Paesaggio e memoria, libro bellissimo, in cui con grande libertà, con la finezza consentita ai veri intellettuali, lui racconta appunto come il nostro rapporto col paesaggio sia un rapporto che non può prescindere dalla memoria individuale, ma anche dalla memoria collettiva. Come viviamo la montagna, noi? Certo individualmente in maniera diversa. E poi oggi? Che differenza c'è tra chi sale sulle montagne del Tibet e chi invece conosce solo le montagne delle Alpi. Insomma, un'epoca in cui Raskin e Turner traducono in immagini una delle nuove categorie estetiche. Una categoria estetica che si era formata addirittura in età classica, con un misterioso piccolo trattato attribuito senza certezze a un Cassio Longino intitolato Del Sublime. Questo trattato scompare per secoli e poi riappare, viene tradotto in inglese, influenza le pubblicazioni di un filosofo inglese del finire del Settecento che si chiama Edmund Burke. E che cos'è il sublime? Il sublime è un brivido del cuore, è quel piacere che proviamo quando le percezioni che arrivano ai nostri occhi e al nostro sistema percettivo ci fanno sentire improvvisamente piccoli. E la sensazione di essere piccoli ed inermi ci dà insieme un brivido di paura e di piacere. Quanto si potrebbe dire? Naturalmente pensate che tutto questo è un piccolissimo cenno, ma uno dei problemi che deve affrontare oggi chi fa il mio lavoro è sicuramente quello di mostrare come tra l'arte antica, fissata nei musei, nelle schede dei cataloghi e l'arte contemporanea, ci sia in realtà un filo che non può essere spezzato. E quindi ogni tanto mi sono permessa, magari in maniera assolutamente personale, ma spero che possa dare suggerimenti anche a qualcuno di voi, di inserire paragoni con l'oggi. Questa che vedete è una fotografia e in questo caso sono un po' scoraggiata dal dovervi proporre una fotografia comunque inaccessibile, perché non si può ancora saltare dentro le fotografie. Nella Fondazione Prada c'è un'installazione di un fotografo che si chiama Thomas Demand, che è un fotografo tedesco, che ha costruito una grotta, una grotta che ha ricostruito esattamente, con gesso, cartapesta, materiali effimeri e accanto alla grotta l'installazione prevede l'esame di cartoline, fotografie di epoche diverse, disegni, documenti, guide. Demand è partito dalla conoscenza di tutti questi elementi, gli sguardi di tanti altri che lo hanno preceduto e guardando questa grotta con l'obiettivo fotografico degli anni, degli inizi del Novecento, degli anni Trenta, degli anni Cinquanta, leggendo le descrizioni che ne sono state fatte, lui arriva alla ricomposizione della grotta, mettendo insieme alla visione la realizzazione virtuale e la documentazione dell'esperienza precedente. Quindi la parte direi più consistente dell'incontro di oggi è la riflessione sul paesaggio, che è, vi dicevo, quella mescolanza di spunti che abbiamo in un luogo, un luogo in cui io sono per un certo periodo di tempo ed entro in contatto con un sistema di forze, di impulsi, di colori, di aria che sta intorno a me. E adesso torniamo alla storia e che storia, anche se pure in questo caso sono convinta, lo so, dite pure tutto quello che volete, ormai sono corazzata, so che tutti quando vedono i ritratti di Napoleone, anzi di buona parte in questo caso, sottolineano un'idealizzazione fasulla, ma dovete perdonarmi, io esco da 30 anni nella corte di Brera, scendendo lo scalone della Breidense e da 30 anni la mia uscita è segnata dalle chiappe del Napoleone di Canova, e quindi sarà questa frequentazione che fa sì che io malgrado tutto, ora naturalmente scherzo, ritenga che quell'epoca, e badate, non soffro evidentemente di nostalgie, la sto analizzando, quell'epoca abbia prodotto un sentimento della vita, uno slancio di energie, come poi forse ha conosciuto la Parigi del 1910, ma forse, perché della Parigi del 1910 noi abbiamo tanti documenti, molto meno di questa Europa che viene scossa alle radici dall'avventura di quest'uomo. Questo dipinto di David, che mostra buona parte che sta arrivando in Italia e sta passando quindi il San Bernardo, viene visto da Turner quando nel 1802 fa questo primo viaggio dall'Inghilterra all'Europa continentale, grazie alla breve pace siglata fra la Francia e le potenze avversarie ad Amiens, quindi pace di Amiens 1802, Turner non vede l'ora di lasciare l'amatissima Inghilterra per capire che cosa c'è al di là dello stretto e passa da Parigi, entra nell'atelier di David e vede questo Bonaparte che passa al San Bernardo. C'è tutto, è un quadro perfetto secondo me e non importa se Bonaparte non era così bello, non importa se è stata sicuramente un'impresa che ha visto più sangue e fatica che eroismo, però c'è questa idea di andare al di là, di superare i limiti, di varcare il finito per piombare nell'infinito. Un quadro strepitoso perché non è solo un quadro di propaganda, il vento nel mantello rosso, il cavallo tributario dei cavalli dagli occhi lucenti ed aggettanti di Rubens, le figure dei soldati che preparano i cannoni e sotto, sotto il cavallo rampante che deve evocare inevitabilmente, evocava inevitabilmente Alessandro Magno, scritte sulle rocce non solo Bonaparte ma Annibale che l'ha preceduto e Carlo Magno, Carolus Magnus in basso sulla destra. Noi siamo abituati, temo in maniera abbastanza irrazionale, a prendere un atteggiamento di distacco quando si sentiamo parlare di Napoleone, ma io devo ricordare che non solo Napoleone campeggia nella corte di Brera, ma che senza Napoleone non avremmo Brera. e quindi senza farmi avvocato dell'amperure, devo ricordarvi che persino il quieto Manzoni, che è una delle divinità tutelari di Brera e soprattutto della Braidense, sospende il giudizio su Bonaparte, che diventa il protagonista, l'emblema di un destino prometeico, del coraggio, di uno che sfida le regole per cui un uomo deve nascere, vivere, rimanere legato alle proprie radici e morire. Ma vi rendete conto che cosa ha fatto questo signore, l'Italia, la Russia, certo le migliaia e migliaia di morti, ma la diffusione del codice civile e soprattutto sempre a cavallo. Io ho una particolare predilezione per la campagna d'Egitto, ma questo lo sapete. Ed ecco Turner, Turner naturalmente sta dalla parte opposta, gli inglesi sono quelli che conducono la guerra contro il piccolo corso. Eppure Turner farà questo dipinto tanti anni dopo quel fatidico 5 maggio, quando ormai Napoleone era sottoterra, ma Turner capisce che Napoleone è ben più dell'uometto panciuto confinato a Sant'Elena, è diventato un simbolo. E lo rappresenta l'impet rock, mentre guarda davanti a sé e dietro agli inconfondibili cieli di Turner, questi cieli apocalittici. E vedete che il cielo, l'acqua, la terra sembrano tutti intorno a lui. Turner crede al fato, al fato e alla speranza. E questa parabola di Bonaparte, che arriva al vertice del potere per poi precipitare, ha in sé una grandiosità che la caduta di tanti altri dittatori non ha. pensate solo ai cento giorni. Quindi l'avventura napoleonica ha lasciato un segno come io credo forse nessun'altra, a una distanza anche molto lunga. De Musée dirà Dopo la fine di Napoleone il mondo si è diviso tra coloro che delusi hanno abbassato la testa e si sono confinati da soli nei propri sogni e quelli che hanno creduto solo nella materia e hanno potuto solo ridere di una risata grottesca. Io vi cito De Musée ma quanti altri? Quando muore Napoleone ci si sente orbati, privati di quello slancio vitale che aveva portato giovani, non giovani donne, bambini a seguire Lampereur e in questo senso naturalmente vedremo che Turner fa di buona parte il rappresentante della parabola di una parabola esistenziale e proprio l'Inghilterra in qualche modo renderà omaggio a questa storia perché forse non tutti sanno che il marmo di Canova che ha dato origine al bronzo che si trova nel cortile di Brera è stato fatto prigioniero perché anche le statue possono essere fatte prigioniere l'odio come posso dire la stima mescolata a odio di Lord Wellington nei confronti del suo rivale era tale per cui il marmo di Canova da cui viene il bronzo che è nel cortile di Brera è finito nella Upsley House di Londra tenuto nel sottoscala lì l'aquila con le ali tagliate ecco vi dico tutto questo perché secondo me senza di lui senza la sua storia non avremmo avuto il romanticismo questo senso di instabilità ma anche questa voglia di cercare altrove l'infinito eppure tutto era cominciato così torniamo al nostro Turner e alle sue radici la mamma ve l'ho detto non può certo né coccolarlo né viziarlo ma il padre barbiere è conscio di avere un figlio eccezionale e prende gli acquerelli i primi acquerelli di William e li mette in vetrina nella vetrina del barbiere e si presterà il vecchio barbiere a fare da assistente al figlio pittore lo aiuterà anche forse lo allontanerà da casa per evitargli di vedere le penose scenate materne lo manderà presso degli amici e ben presto Turner farà capire di avere una manualità e un rapporto con i colori con i pennelli assolutamente straordinaria è così determinato Turner ha fatto per l'arte quello che i vecchi soldati di Bonaparte hanno fatto per l'esercito ha lavorato con una fedeltà con una intensità con una assolutezza che lo hanno reso forse un po' matto con la stessa passione ecco è un'epoca in cui si si fa strada un'idea più che un'idea un'emozione che forse oggi ci sembra distante impossibile eppure è la nota dominante di quest'epoca la passione all'inizio Turner fa querelli e siamo in un'epoca in cui il paesaggio inglese si popola di queste meravigliose dimore e quelle che sono più antiche vengono risistemate e diventano protagoniste di paesaggi bellissimi è l'epoca dei bei libri illustrati di viaggio uno Italy di Samuel Rogers Rogers l'aveva scritto naturalmente prima dello scoppio delle guerre napoleoniche deve essere prima di essere pubblicato illustrato viene chiamato un disegnatore si chiama Gerten e viene chiamato il giovanissimo Turner a dipingere quei disegni che diventeranno illustrazioni Turner comincia a viaggiare viaggia per questa Inghilterra piena di luoghi di memoria perché se noi pensiamo ai fantasmi inglesi e tutti noi abbiamo in mente le storie dei gust inglesi in fondo i fantasmi sono la memoria dei luoghi e Turner comincia a girare e trova dei mecenati importanti questo che vedete è un castello del Somerset l'impostazione è ancora un'impostazione abbastanza tradizionale primo piano più scuro e poi una chiaria in fondo il rapporto tra architettura e natura anche questo argomento meraviglioso perché ci si domanda e intanto sta crescendo l'industria in Inghilterra come può l'uomo entrare in questo meraviglioso meccanismo che è la natura l'uomo è parte della natura o no noi dopo tanto tempo il post del post del post forse non abbiamo ancora le idee chiare girando per queste dimore che lo ospitano con amici illustri che fra l'altro sono entrati nella storia dell'Inghilterra John Nash a Monroe Turner può vedere le opere di un pittore di paesaggi di marine poco conosciuto in Italia e invece molto amato in Inghilterra un pittore del 600 che si chiama Claude Lorrain dove Lorrain sta per lorenese era un pittore del 600 appunto uno di quei pittori francesi arrivati nella Roma barocca che pur lavorando a Roma conduce una vita un po' a parte come d'altra parte il maestro della pittura francese del 600 a Roma cioè Nicolas Poussin gli inglesi da subito amano le marine di Claude Lorrain e ne comperano parecchie e Turner girando per queste splendide dimore inglesi si ferma davanti alle collezioni di tele di Lorrain che i proprietari hanno raccolto questo è appunto un dipinto di Lorrain e vedete Lorrain è immediatamente riconoscibile perché l'orizzonte è trasfigurato da una luce che non è una luce naturale che è una luce che sembra mettere insieme come il cielo l'acqua vedete che c'è addirittura il fenomeno dei due soli e Lorrain crede nel sole come in una fonte non solo come fonte di vita ma come una sorta di divinità ecco è un po' il filo conduttore dell'incontro che conduco oggi ma le marine di Lorrain sono anche straordinariamente luminose ed equilibrate Lorrain dà i paesaggi mediterranei parzialmente derivati dal vero ma in buona parte inventati questo questo aspetto di grande quiete una quiete misteriosamente sapiente non la quiete dell'arcadia una quiete dorata come se tra il mondo dell'aldilà e l'aldiquà ci fosse un filo diretto e questo è un libro edito in Inghilterra proprio all'epoca di Turner che raccoglie le stampe derivate dai dipinti e dai disegni di Lorrain e questo libro si intitola Liber Veritatis pensate all'importanza di questo titolo il libro della verità e attenzione importante che si tratti di un libro laico che si tratti di un libro Grazie a tutti